Il Villamare Festival Film & Friends non rinuncia all'ottimismo e prosegue nell'organizzazione della diciannovesima edizione in programma dal 22 al 29 agosto, così come è stabilito lo scorso anno. L'entusiasmo e la voglia di cinema non mancano né fra gli organizzatori e il pubblico, né fra i filmmakers. Prova ne è che al momento sono ben 373 i cortometraggi arrivati, tra quelli a tema libero, quelli su tematiche ecologiche e ambientali che concorrono al premio speciale di Lega Ambiente e quelli a carattere sociale che competono per il premio speciale messo in palio dal Rotary Club. 33 invece i lungometraggi fino ad ora iscritti alla gara. Le candidature non hanno smesso di arrivare neppure durante l'emergenza sanitaria a dimostrazione che l'arte e la creatività non si sono fermate, ma anzi sono uscite ancora più arricchite da questo periodo. I bandi sono ancora aperti, il 29 giugno è il termine per la presentazione dei cortometraggi, l'8 luglio quello per i lunghi. L'organizzazione sta approntando tutto quanto necessario per la fruizione della Kermess anche ai tempi del Covid-19. Non rinunciamo al sapore autentico del cinema, dichiarato il direttore artistico del festival Alessandro Coccorullo. Con tutte le precauzioni possibili il nostro è e resta un evento all'aperto dove c'è tutta l'atmosfera del cinema, del guardare una pellicola dal vivo e del sentire gli umori del pubblico sul momento man mano che il film si sviluppa. Resterà dunque l'impianto classico delle serate finali in piazza Porto Salvo, ma anche le altre due location del festival in località Le Piane e presso il Residence Legginestre saranno parte integrante di questo evento che solitamente si dispiega all'inizio con proiezioni non stop e piccoli eventi che potrebbero anche coinvolgere altre località. Di certo non sarà facile in un periodo in cui sono stati anche tanti gli eventi a rimandare o a rimandarsi. Auspichiamo, ha detto ancora Coccorullo, che i appuntamenti consolidati sul territorio e già riconosciuti in passato a livello regionale venga data la giusta attenzione considerando che quest'anno sui contributi che possono arrivare dai comuni o dalle sponsorizzazioni locali c'è un grosso punto interrogativo visto i difficili tempi economici e anche le minori entrate per gli stessi enti locali.